Bene, vogliamo aprire la parola del Signore ancora nella prima lettera di Paolo a Timoteo. Vogliamo riprendere da dove ci siamo fermati, domenica, versetto 11, prima Timoteo capitolo 3 e versetto 11. Un brano che abbiamo visto è riferito alle sorelle, è riferito alle donne timorate di Dio, timorate del Signore. Dice Paolo, allo stesso modo siano le donne vignitose, non maldicenti, soglie, fedeli in ogni cosa. Il fatto che l'Apostolo Paolo dica al versetto 11, allo stesso modo, richiama proprio la caratteristica della irreprensibilità. Questo perché? Perché nel versetto 10, a proposito dei viaconi, Paolo dice, anche questi siano prima provati, poi svolgono il loro servizio se sono irreprensibili, allo stesso modo le donne. Quindi vedete come sia chiaro dalla parola di Dio che l'irreprensibilità non è una caratteristica per qualcuno e basta, per qualche elite di figli di Dio o solo per i conduttori di una chiesa locale. Ma vedete, tutti quanti noi siamo chiamati ad essere tali, ad essere irreprensibili. E mi colpisce proprio questo ultimo attributo, ma ritengo che non lo sia ultimo in ordine di importanza, sebbene tutte le caratteristiche, tutte le qualità spirituali di un figlio di Dio siano importanti, ma notate come nell'ultima parte del versetto 11 si parla della fedeltà, fedeli in ogni cosa. E quindi ancora una volta la parola di Dio ci richiama all'importanza della fedeltà. Lo abbiamo visto per gli anziani, lo abbiamo visto per i viaconi e lo vediamo anche per le sorelle. La fedeltà è proprio una caratteristica distintiva di ogni figlio di Dio. E la parola di Dio ci vuole ricordare, attraverso alcuni brani che vedremo, che la fedeltà del Signore non è condizionata da niente e da nessuno. Deve essere incondizionata. Ovvero non abbiamo noi una giustificazione all'infedeltà. Non esiste uno. Non posso dire, Signore, quando ci troveremo davanti a Lui, perché sarà Lui che ci giudicherà, Signore, quella volta sono stato infedele perché, per come e per quando. Non ci sono giustificazioni. La fedeltà di un figlio di Dio, come il suo amore per il Signore, vanno di pari passo, amore e fedeltà, deve essere incondizionato. E lo vediamo, vedete, in diversissimi testi e anche attraverso tante biografie che noi abbiamo nella scrittura. Un primo brano che vorrei portarvi a leggere, l'abbiamo nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 2. Mi colpisce sempre questo angelo, ovvero questo rappresentante di questa chiesa, perché ricordo che questi sette messaggi che il Signore Gesù indirizza alle sette chiese dell'Asia minore sono riferite in modo specifico ai sette rappresentanti. Quindi, quando Gesù elogia e quando Gesù riprende, questi elogi e queste riprensioni sono in riferimento innanzitutto al rappresentante di questa chiesa. Quello che mi colpisce, e che ci colpisce sicuramente, è che due di questi rappresentanti, ovvero i rappresentanti della chiesa di Smirne, rappresentanti della chiesa di Filadettia, non hanno rimproveri. Quanto è bello! Quanto è bello potersi presentare davanti al Signore e non avere rimproveri! Soltanto elogi! Ma proviamo un attimino, visto che prima si parlava di immedesimarsi, immedesimiamoci in questo scenario, dove è presente tutta la chiesa, tutta la chiesa di tutti i tempi, da quando è nata, e il Signore Gesù nel rivolgersi, nel rivolgere a noi la sua valutazione sulla nostra vita, non ha un rimprovero, ma soltanto elogi. Io credo che per noi quello sia un momento di gioia indescrivibile. Gioia indescrivibile, uno, perché siamo alla presenza del Signore, ma anche gioia indescrivibile perché il mio Signore e il Salvatore non ha un rimprovero per me. Non ha un rimprovero per noi. Ebbene, al versetto 9 di Apocalisse 2, Gesù parla a questo rappresentante e dice, io conosco la tua tribolazione, conosco la tua povertà, tuttavia sei ricco, e le calugne lanciate da quelli che dicono di essere giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere quello che avrai da soffrire, ecco il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per dieci giorni, sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Prima si parlava di bisogni, no? Prima si parlava di bisogni primari che noi abbiamo nella nostra vita. Abbiamo visto appunto quel cieco il cui bisogno primario era recuperare la vista. Ma vedete, anche in questo caso io mi trovo abbastanza spiazzato. Mi trovo abbastanza spiazzato perché? Perché quando si è perseguitati, quando si è perseguitati, quando si è sotto persecuzione, quale dovrebbe essere, da un punto di vista logico, da un punto di vista umano, la richiesta primaria? Che cosa vorremmo noi se fossimo perseguitati come lo era la chiesa di Smirne, come lo era la chiesa primitiva sotto l'impero, ad esempio, di Nerone? O di Diocleziano, o di Traiano, come nel periodo delle sette chiese, abbiamo Traiano come imperatore. Che cosa vorremmo noi? Beh, io credo che ciascuno di noi vorrebbe che la persecuzione finisca dall'oggi al domani. O no? A noi non ci piace soffrire. A nessun essere umano piace soffrire. Ho seguito recentemente il convegno che c'è stato di Porte Aperte, è stato ovviamente online e anche in questo convegno, come in tutti gli altri convegni, Porte Aperte o comunque i cristiani perseguitati non chiedono che la persecuzione cessi. non è questa la loro richiesta. La loro richiesta è pregate per noi affinché Dio ci dia la forza per affrontare la persecuzione. Questa è sempre la richiesta. E questo sinceramente mi spiazza. Questo mi spiazza perché va contro, se vogliamo, la nostra logica. notate, qui Gesù alla chiesa di Smirne non gli sta dicendo guarda che la persecuzione terminerà da qui a poco. Si parla di dieci giorni, questi dieci giorni sono immersi nel mistero, ma tralasciamo per un attimo questo. Gesù, il Signore, che cosa sta chiedendo al rappresentante di questa chiesa e di conseguenza alla chiesa di Smirne? Di rimanere fedele. Sii fedele fino alla morte. Sii fedele per tutta la tua vita. Sii fedele nonostante i problemi. Sii fedele nonostante le angosce. Sii fedele nonostante quelle circostanze avverse nelle quali tu puoi essere. Sii fedele. Questo è il richiamo del Signore Gesù. Ed è il richiamo che rivolge a ciascuno di noi perché, vedete, la cartina torna sole che Gesù userà quando saremo davanti a Lui è la fedeltà. Lui valuterà la nostra fedeltà, la nostra ubbidienza o la nostra disobbidienza. Un'ubbidienza è una disobbidienza che può essere manifesta come può essere segreta nel cuore perché noi possiamo anche ubbidire esteriormente ma disubbidire interiormente e si chiama ipocrisia. L'uomo è maestro in questo. Siamo maestri in questo. Ma il Signore non lo possiamo ingannare. Noi dobbiamo essere ubbidienti nell'interno e di conseguenza ubbidienti nell'esterno esteriormente. Nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 4 l'Apostolo Paolo ci parla dell'economo ovvero dell'amministratore in greco è oikonomos e l'amministratore a quei tempi o questo termine è greco veniva utilizzato per chi aveva delle grandi responsabilità all'interno di una casa o comunque nella società. potremmo dire oggi l'amministratore delegato di un'azienda un'azienda delega un'amministratore a gestire le ricchezze a gestire il capitale a gestire gli investimenti di quell'azienda. Un esempio noi lo abbiamo di amministratore delegato nella Bibbia che è Giuseppe. Giuseppe fu amministratore delegato in due realtà nella casa di un egiziano e come vice re Egitto. lì abbiamo l'esempio dell'amministratore. Allora Paolo dice nei versetti 1 e 2 così ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Del resto quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. e qui noi abbiamo la chiara indicazione di come noi saremo valutati. Paolo dice che la chiesa di Corinto come tutte le chiese erano chiamati a considerare l'apostolo Paolo come servo del Signore. ma servitore di Cristo servo di Dio non è soltanto l'apostolo Paolo non sono soltanto gli apostoli o come oggi vengono chiamati servitori a pieno tempo. Tutti noi siamo servi di Dio serve di Dio perché siamo stati comprati siamo stati acquistati a caro prezzo per uno scopo che è quello di servire Dio non servire noi stessi non servire i nostri interessi non soddisfare le nostre passioni ma servire il Signore ma Dio nella sua sovranità si usa di coloro che si vogliono porre al suo servizio perché Dio non costringe nessuno Dio non ha bisogno di noi siamo noi che abbiamo bisogno di lui Dio è autosufficiente in se stesso Dio può compiere i suoi progetti con o senza di noi Dio li porta a termine comunque perché è autosufficiente pienamente autosufficiente a se stesso siamo noi che abbiamo bisogno di lui siamo noi che abbiamo bisogno di servirlo noi proprio abbiamo bisogno di sentirci al servizio del Signore e come servi del Signore come servi di Cristo l'Apostolo Paolo si definisce amministratore dei misteri di Dio cioè vuol dire che Dio le sue ricchezze i suoi misteri li ha consegnati a noi da gestire ad esempio il Vangelo il Vangelo è una meravigliosa ricchezza che noi abbiamo nella parola di Dio il potente messaggio della salvezza il potente quel potente messaggio che è capace che è capace di cambiare la vita di ogni essere umano la vita di ogni uomo la vita di ogni donna ed il Signore ce l'ha donata in ciao Gabriele ce l'ha donata in gestione ha donato questo potente messaggio in gestione questa mattina Pasquale non so se c'è anche Benny c'è anche Benny stamattina ah no ok Pasquale è al banchetto e lui sta amministrando questo messaggio noi ogni giorno della nostra vita siamo amministratori del Vangelo di Dio la domanda è come stiamo gestendo come stiamo gestendo la ricchezza questa potente ricchezza che il Signore ci ha affidato io personalmente di fronte ad una tale responsabilità tremo tremo perché è una responsabilità veramente altissima ma ognuno di noi ce la ognuno di noi ce la e vedete questa fedeltà l'Apostolo Paolo come noi abbiamo letto in prima Timoteo 3 è anche in relazione ad una donna che è timorata di Dio ad una donna che è consacrata al Signore indipendentemente dalla situazione familiare nella quale è chiamata ad essere fedele è chiamata nel suo ruolo di moglie nei confronti del marito ed è chiamata ad assolvere a quel solenne compito di consigliera di saggia consigliera del marito perché ci possono essere delle situazioni nelle quali purtroppo non dovrebbe accadere così il marito non è fedele e il marito si sta deviando e allora come si comporta una moglie consacrata io devo essere fedele al Signore io devo essere fedele in ogni cosa come mi dice qui l'Apostolo Paolo che allora intervengo nel mio ruolo di moglie nel mio ruolo di aiuto convenevole nel cercare di far riflettere il compagno il marito che io ho a fianco essere fedele al Signore è incondizionato e questo mi porta ci deve portare ad una consapevolezza veramente della responsabilità che il Signore ci ha affidato allora andiamo a non l'ho fatto la volta scorsa ma lo voglio fare questa mattina brevemente a Proverbi capitolo 31 vogliamo dare uno sguardo a questo capitolo così straordinario che ci parla di questa donna possiamo dire che Salomone anche se il capitolo 31 non l'ha scritto lui sapete che il libro dei Proverbi ha diversi autori umani ma e non soltanto Samuele Salomone Proverbi 31 è scritto da Lemuel sono parole di un re ovvero Lemuel e questo re parla di questa donna e queste parole questo è molto importante che cosa leggiamo al versetto uno parole del re Lemuel notate massime che sua madre gli insegnò è interessante Lemuel non inventa nulla Lemuel sta trasmettendo a noi a distanza di millenni a distanza di millenni l'esperienza e l'insegnamento che lui aveva ricevuto da sua mamma da sua madre e persino Salomone quando parla suo figlio lo leggete nei primi capitoli adesso mi sfugge la citazione che cosa dice Salomone quando me ne stavo tra le nel seno di mia mamma quando stavo sulle gambe di mio padre io ho ricevuto questi insegnamenti e chi erano il papà e la mamma di Salomone Davide e Barceva quando io ero là quando Bezzabea mia mamma Bezzabea mi parlava quando mio padre Davide mi parlava ora a te figlio ti trasmetto la stessa cosa quegli insegnamenti che io ho ricevuto ed è bello vero che l'apostolo Paolo a Timoteo dice queste cose perché Timoteo deve ringraziare due donne per ciò che Timoteo era ovvero sua mamma e sua nonna due donne hanno segnato profondamente la vita di quest'uomo di Dio allora che cosa ci dice Lemuel versetto 2 che ti dirò figlio mio quindi anche adesso non vi so dire se Lemuel sta parlando a suo figlio anzi no credo che sia la mamma quando parlava lui che ti dirò figlio mio che ti dirò figlio del mio grembo che ti dirò ho figlio dei miei voti bella questa espressione figlio dei miei voti vuol dire che questa donna aveva consacrato suo figlio a Dio esattamente come la mamma di Samuele che cosa disse Anna la mamma di Samuele signore il figlio che tu mi darai sarà tuo potrai farne quello che vuoi e così fece Anna non era una donna che parlava in un modo superfluo parlava a vanvera come si suol dire parole vuote promesse da mercante da marinaio come si suol dire ma promesse che poi lei ha di più e quando nacque Samuele il primo pensiero di Anna fu quello di consacrare suo figlio al Signore dire figlio dei miei voti vuol dire che la mamma di Lemuel aveva consacrato questo figlio al Signore non dare il tuo vigore alle donne non frequentare quelle che mandano in rovina i re direi che è un consiglio molto saggio questo non si addice ai re Lemuel non si addice ai re bere del vino né ai principi desiderare bevande alcoliche che a volte dopo aver bevuto non dimentichino la legge e calpestino così i diritti di tutti i deboli perché questa mamma riferisce da questo consiglio a Lemuel perché a quei tempi i re pagani si lasciavano si lasciavano andare alle gozzoviglie si lasciavano andare alla lossuria basti notare quello che noi leggiamo nel primo capitolo del libro di Esther quando il re Assuero fa quel gran convito e immaginiamoci com'erano quei conviti dove questo re chiama sua moglie la regina a suo tempo vaspia affinché ballasse davanti a tutti come se fosse un oggetto come se fosse un oggetto in vendita e così erano i conviti così festeggiavano i re pagani e questa mamma dice Lemuel devi distinguerti tu sarai re sei sei un re del popolo eletto tu non puoi fare come fanno gli altri tu non ti devi conformare agli altri a quello che fanno gli altri re tu devi stare a quello che dice la legge quanto è bello questa mamma che guida suo figlio all'obbedienza della Torah di quella legge che Dio aveva dato a Mosè date bevande alcoliche versetto 6 a chi sta per perire del vino a chi ha il cuore amareggiato perché bevono dimentichino la loro miseria e non si ricordino più dei loro travagli che cos'è che succede ad un ubriaco tante volte perché tante persone cadono nella droga dell'alcol proprio per perché subissati dai problemi e allora si lasciano andare all'alcol per temporaneamente dimenticarsi di quei problemi che attanagliano il loro cuore queste sono parole ironiche di questa donna che bevino lascia di bere loro lascia di bere che affoghino i loro problemi nelle bevande alcoliche ma tu comportati diversamente apri la bocca in favore del muto per sostenere la causa di tutti gli infelici apri la bocca giudica con giustizia fai ragione al misero al bisognoso bellissimo guardate come questa donna guida suo figlio nel sostenere i deboli nell'aiutare chi è in difficoltà cosa che doveva fare effettivamente un re aiutare il debole aiutare l'orfano aiutare la vedova ecco perché nell'antico testamento Dio è visto come il protettore dell'orfano della vedova del bisognoso e poi dai versetti 10 a 31 abbiamo questo inno possiamo dire possiamo dire così questo inno questo elogio di questa donna virtuosa una donna ipotetica ma non è una donna che non esiste è una donna che esiste è una donna il cui carattere la cui vita è modellata dall'azione dello spirito santo una donna virtuosa chi la troverà il suo pregio sorpassa di molto quello delle perle vedete la perla è un simbolo di paragone nella scrittura per parlare di una ricchezza grandissima vi ricordate la parabola del mercante che va in cerca di una bella perla e vende tutto quello che ha per acquistare quella perla vende tutto quello che ha perché vuole quella perla ebbene qui questa questa mamma dice all'Emuel se tu troverai una donna così quando tu troverai una donna così sappi che tu hai acquistato che tu hai una ricchezza ben superiore a quella delle perle e non è forse così per un marito che vuole servire Dio avere a fianco una donna che l'aiuta nel servizio una donna consacrata una donna che sa dare i giusti consigli che sa intervenire al momento giusto il cuore di suo marito confide in lei ed egli non mancherà mai di corviste lei gli fa del bene e non del male tutti i giorni della sua vita è bello questo marito che può avere una fiducia totale una fiducia al cento per cento nei confronti di sua moglie si procura lana il vino lavora gioiosa con le proprie mani è simile alle navi dei mercanti fa venire il suo cibo da lontano si alza quando ancora è notte distribuisce il cibo alla famiglia è il compito alle sue serve è un'amministratrice perfetta di casa abbiamo notato il suo pensiero è il benessere della famiglia è il benessere di suo marito il benessere dei suoi figli sa gestire qui si parla ovviamente di una donna che è ricca perché si parla di serve al suo servizio ma non è una come possiamo dire una donna sconsiderata non è una donna che lascia andare la sua famiglia in vie storte ma è una donna assennata è una donna che sa gestire bene le ricchezze un'amministratrice possiamo dire anche a livello economico versetto 16 posa gli occhi sopra un campo e lo acquista è brava anche negli affari posa gli occhi sopra un campo e lo acquista con il guadagno delle sue mani pianta una vigna però non male avere una donna che è capace anche di amministrare le ricchezze di una famiglia e riesce anche ad avere a investire nel modo giusto ovviamente unitamente con il suo marito si cinge di forza i fianchi fa robuste le sue braccia questa non è una donna debole non è una donna debole è una donna forte è una donna con un carattere formato con un carattere modellato dallo spirito santo ha le braccia forti non soltanto fisicamente parlando ma anche spiritualmente parlando sente che il suo lavoro rende bene la sua lucerna non si spegne la notte la sua lampada è sempre accesa è sempre accesa mette la mano alla rocca e le sue dita maneggiano il fuso tende le palme al misero e porge le mani al bisognoso vedete le stesse cose che la mamma diceva a Lemo di fare ovvero di difendere il povero di difendere il bisognoso di aiutarlo questa donna fa uguale è una donna che è sensibile è una donna che è sensibile ai problemi degli altri non pesa soltanto a se stessa esattamente come l'apostolo Paolo dice ai filippesi prima gli interessi degli altri poi i vostri e noi tante volte capogolgiamo i principi non teme la neve versetto 21 per la sua famiglia perché tutta la sua famiglia è vestita di lana rossa molto probabilmente si trattava di una lana estremamente pregiata non teme la neve perché perché sa dare i giusti abiti ai propri figli li difende li protegge dal freddo si fa dei tappeti a vesti di lino finissimo e di pontua ricordiamo che è una donna ricca suo marito è rispettato alle porte della città le porte della città si radunavano i capi di una città coloro che avevano delle responsabilità amministrative e quando passa questo marito quando passa quest'uomo gli altri si alzano in piedi ma non per lui o non solo per lui ma per la donna che ha a fianco è bellissimo questo suo marito è rispettato alle porte della città quando si siede tra gli anziani del paese lo abbiamo visto studiando gli anziani diaconi che cosa abbiamo visto che non è importante soltanto il conduttore in sé o il diacone in sé ma è importante anche la famiglia che moglie hai che figli hai questo è importante che donna hai a fianco fa delle tuniche e le vende e delle cinture che dà al mercante forza e dignità sono il suo manto e lei non teme l'avvenire è una donna praticamente a livello di dignità come il marito è una donna rispettata è una donna rispettata non perché è ricca non perché ha del benessere economico ma è rispettata per l'esempio spirituale che dà è una donna che ha forza spirituale è una donna il manto sapete che era un manto che avvolgeva tutto il corpo a quei tempi e dire forza e dignità sono il suo manto vuol dire che la dignità protegge questa donna protegge questa moglie virtuosa apre la bocca con saggezza e ha sulla lingua insegnamenti di bontà abbiamo letto no? le donne non devono essere maldicenti dice l'apostolo Paolo come apre la bocca questa donna? la apre con saggezza ovvero ricordando quelli che sono gli insegnamenti del Signore perché nel libro dei proverbi la saggezza è personificata in Dio stesso è una donna che chiede a Dio la sua saggezza e il Signore gliela dà perché Giacomo dice che se noi chiediamo con fede la saggezza del Signore Egli se la donerà e avere a fianco una donna saggia per un marito è tutto per un marito è tutto e ha sulla lingua insegnamenti di bontà che poi trasmetterà naturalmente anche i figli sorveglia l'andamento della sua casa e non mangia il pane di pigrizia è una donna che sta attenta ad ogni particolare è una donna che sta attenta ad ogni minimo cambiamento magari di comportamento o del marito o dei figli non gli sfugge nulla non gli sfugge niente e questo è importante perché tante volte nelle nostre famiglie ci sono dei campanellini d'allarme che noi non vediamo e poi questi campanellini d'allarme diventano problemi giganteschi dobbiamo stare attenti anche ai minimi segnali che possiamo avere nelle nostre famiglie di cambiamento e questa donna ce lo insegna versetto 28 i suoi figli si alzano e la proclamano beata ma quanto è bello avere dei figli che dicono mamma come te non c'è nessuno ma non te lo dicono dei bambini di 5 anni o dell'età di mio figlio Jonathan ma te lo dicono figli che hanno 20, 30, 40 anni come te non c'è nessuno tu le superi tu le superi sei la migliore mamma del mondo e questo è veramente molto bello suo marito valore e qui abbiamo un insegnamento per noi mariti non diamo tutto per scontato non diamo tutto per scontato perché le donne hanno un peso all'interno della famiglia a livello di lavoro a livello di impegno siamo chiamati a delogiarlo siamo chiamati a avvicinarcelo affinché loro possano sentire che noi mariti li consideriamo veramente e questo marito la loda in che modo? versetto 29 molte donne si sono comportate da virtuose ma tu le superi tutte e ogni marito dovrebbe dire così dalla propria moda ogni marito tu le superi tutte ma non perché si fanno discriminazioni ma perché sei mia moglie sei la donna della mia vita e giustamente questo elogio è motivato da tutto quello che noi abbiamo letto in precedenza versetto 30 vado verso la conclusione la grazia è ingannevole e la bellezza è cosa lana fratelli e sorelle siamo in un mondo che è governato dal materialismo è governato dall'esteriore e lo possiamo vedere in ogni momento basta accendere la televisione la tv per rendercene conto ricordiamoci la grazia e la bellezza passerà esteriore passerà io mi ricordo di uno studio di tanti anni fa tenuto dal fratello Ungaro a Poggio Bertini dove proprio lui si rivolgeva alle giovani sorelle e diceva proprio ricordatevi che adesso voi state attenti al vostro fisico state attenti al vostro corpo ma arriverà il momento che ci saranno le rughe arriverà il momento che la pelle non sarà più come prima e invecchirete e la vostra bellezza inizierà a scemare inizierà ad innuire ma ciò che rimarrà per sempre ciò che rimarrà sempre è la bellezza spirituale di una donna consacrata quanto aveva ragione quanto aveva ragione questa è la bellezza che dura questa è la bellezza quando noi leggiamo di Mosè no? che era bello agli occhi di Dio ma ogni bambino è bello ogni neonato è bello ma in che senso era bello agli occhi di Dio perché Dio vedeva ciò che quel bambino sarebbe diventato il fedele conduttore di Israele e perciò la grazia è ingannevole e la bellezza è cosa vana ma la donna che teme il Signore è quella che sarà dotata datele del frutto delle sue mani e le opere sue le alodino alle porte della città questa è una bellissima espressione perché vedete quando noi serviamo Dio non abbiamo bisogno di autoreferenziarci chi ci referenzia sono le opere che compiamo è il nostro servizio non abbiamo bisogno di aprire bocca ciò che parla è il nostro servizio questa donna non ha bisogno anche se giustamente il marito i figli la lodano questa donna non ha bisogno di vantarsi non ha bisogno di dire io sono così perché le sue opere stesse le opere che lei compie per amore del Signore la lodano care sorelle voi avete la potenzialità di essere così avete questa potenzialità che è data dallo Spirito Santo esattamente come noi fratelli noi mariti abbiamo la potenzialità di essere come Paolo ci descrive in Prima di Motto 3 perché abbiamo lo Spirito Santo e questo Spirito può trasformarci può modellarci conformi all'immagine del Signore Gesù che così sia fratelli e sorelle per ciascuno di noi Amen Grazie Grazie